Siamo presso la presidenza di Chima Ambiente AMIU e siamo in compagnia dell'Avvocato Giampiero Mancarelli che è il presidente del CDA di Chima Ambiente AMIU. Una serie di puntate in cui ci soffermeremo sulle attività dell'azienda in modo particolare sulla raccolta differenziata. La raccolta differenziata è una svolta e in quanto tale ovviamente ha una sua gestazione impegnativa con le difficoltà, gli errori, le migliorie che una transizione del genere comporta. E allora presidente facciamo un po' il bilancio da quando si è partiti con la raccolta differenziata. In tutta sincerità cosa ha funzionato, cosa ha funzionato di meno e in che cosa si dovrebbe intervenire? Beh, parlare di raccolta differenziata a Taranto fino a qualche tempo fa era un tabù. Con la perseveranza e la lungimiranza del sindaco Rinaldo Melucci abbiamo posto in essere le basi perché intanto nei primi quartieri come Tamburi e Paolo VI si è avviato il sistema del porta a porta che quindi prevede un calendario chiaro, netto che va quindi da parte dei cittadini osservato e poi abbiamo avviato anche il sistema ingegnerizzato con le isole ingegnerizzate su città vecchia e borgo. Adesso siamo in una fase di assestamento, come bene diceva lei insomma ci sono senza dubbio delle criticità, degli elementi di forza in ogni rivoluzione che si svolge. Qui a Taranto ad oggi con un terzo della città coperta siamo al 25%. Ecco facendo un po' una tempistica, una cronologia, quando si arriverà alla raccolta differenziata completa, a pieno regime? Sì, se non ci fosse stato il Covid noi avremmo già su indicazioni del socio, quindi del Comune di Taranto, completato il sistema. Nei fatti purtroppo il Covid sta rallentando la posizione e l'installazione delle altre isole ingegnerizzate e così per tutta la città. Nell'anno, per stare larghi, noi completeremo l'installazione di tutte le isole e il sistema della raccolta differenziata. Certo, chiediamo ai cittadini attenzione e soprattutto un particolare riguardo al tema della raccolta differenziata e del rifiuto, perché con i nostri impianti il rifiuto diventa veramente risorsa. Certo, chiediamo ai cittadini attenzione e del rifiuto diventa.